...transitati durante l'azione circa 2000. Pari allo sforzo delle macchine è stata la resistenza dei nostri fanti, delle camicie nere e delle truppe libiche, che sotto un calore di tutto. Il comportamento, valore e spirito di sacrificio di tutte le forze armate, terrestri e aeree, scrive il maresciallo Graziani, sono stati superiori ad ogni elogio, specie tenendo presente le condizioni del terreno e la stagione... ...l'afflusso delle nostre unità di truppe celeri e di artiglieria. Grazie a tutti! Una rigorosa disciplina stradale evita ingombri ed ingordi nella grande strada, dove il traffico dura giorno e notte ininterrottamente. l'intenso movimento di artiglieria e di rifornimenti su di una grande... Grazie a tutti!